Poco prima di realizzare l'intervista arriva la telefonata dell'associazione pugliese anti-racket. Renato De Scisciolo stavolta si rivolgerà al questore per chiedere aiuto per un caso che definisce assurdo. Conosce bene il dramma di Gaetano Parisi che a Bitonta ha una ditta di soccorso stradale. Nel giro di dieci anni ha subito sei incendi e furti che ormai non conta né denuncia più. Tanto dice le pratiche vengono archiviate. Gli ultimi due furti venerdì e domenica notte. Hanno tagliato la rete e rubato traverse, pezzi di ricambio, una cisterna per l'acqua, gruppi elettrogeni, attrezzi vari, una saldatrice. Dice di sapere chi agisce. Ma io ho rotto le scatole a qualcuno. Forze dell'ordine. Forze dell'ordine. Io posso precisare, non sono tutti uguali. La cesta però è piena di marcio. Ma è anche una questione di concorrenza. Sì, anche una questione di concorrenza. Ma la concorrenza viene alleviata, viene aiutata da questi soggetti. Vogliamo parlare della cosa seria? Non potevo dar da mangiare tanta gente. Parisi è, anzi, era anche custode giudiziario. Nel 2008 è stato rinviato a giudizio per aver trasferito a mezzi sequestrati in un deposito non autorizzato. È stato assolto lo scorso gennaio perché il fatto non sussiste. Ma il permesso per riprendere l'attività non gli è stato rinnovato. Prima di quella data vanta crediti da comune di Bitonto, prefetture e tribunale di Bari per almeno 70 mila euro. Mai avuti. La settimana scorsa sono andato per parlare col procuratore. Il risultato è qui. non lo sanno neanche a casa questo fatto. Questo è il risultato. Il 118. Avete capito quello che sta succedendo? Io mi sto ammalando per questo fatto. Hanno deciso di farmi chiudere perché ho vinto anche la causa.